Carlotta ASMR Ciao a tutti, come state? Spero stiate benissimo Benvenuti in un nuovo video che sto girando ad inizio luglio quindi non so quando uscirà e potranno accadere cose vi dirò spesso questa frase, penso perché mi sto portando avanti col lavoro per un bel po' col lavoro, insomma dunque oggi è domenica per me, 10 luglio e avevo bisogno, ho bisogno di fare skin care perché sono un po' di giorni che proprio non faccio niente è talmente caldo che metto solo il tonico, non metto nemmeno la crema cosa che non faccio da anni quindi oggi una bella skin care profonda c'è solo un prodotto di cui posso mettervi il link degli altri, vi metto il link del sito e comincia non ho neanche lavato il viso cioè questa va con il mio viso così svegliata un po' dunque vado a lavare quindi detergere il viso con questa che è finita e anche bagnata non c'è più cioè penso basterà solo per questo lavaggio che è una mousse detergente e struccante di Jada Cosmetics con ve verde, camomilla e pacche di goji rimuove bene il trucco mi piace ma ve l'avevo già fatta vedere testandola a lungo perché è finita posso dire che non la ricomprerò cioè mi piace ma non mi entusiasma resto fedeli al mio detergente solito ok quindi c'è quel viso e poi vi faccio sentire il rumore della mousse e poi vi faccio sentire il rumore della mousse che si Baila L'effetto mousse si è completamente Cioè svanito, non so come dirvi Forse perché è finita Risciacquo Che bello in estate Lavarsi il viso Con l'acqua fresca Proprio soddisfacente Tanto quanto in inverno è soddisfacente Lavarsi il viso con l'acqua calda Non lo secondo me Allora oggi andrò ad utilizzare Ve l'ho finito Anche questo, quindi l'ho stratestato Questo prodotto Che è del marchio Oro Bio La cui Editrice, creatrice Non saprei come dire Martina Rodini Che io seguo su Non me li ha inviati E li ho acquistati un sacco di tempo fa Che io seguo su Instagram E mi piacciono tanto Questi suoi prodotti Ossia lo scrub Che la maschera Che è quello che andremo a fare oggi Spero di riuscire a cavare Un ragno dal buco Perché sono veramente finiti E ho anche Il contorno occhi Vabbè Intanto faccio lo scrub E poi vi dico Però voglio rinumidire un po' Il viso È uno scrub In crema Al cocco Caffè Zenzero E mandorla Adatto A tutti i tipi Di pello Non so se sarà facile Ok Come vedete È color Caffè Cerco di evitare Il contorno occhi Ma non troppo Perché io ho diversi Crani di miglio Quindi in modo delicato Ma E poi non proprio sotto gli occhi Un po' ci vado Perché Un dermatologo Chirurgo estatico Da cui ero andata A farmene togliere Alcuni che erano veramente Troppo evidenti Mi davano proprio fastidio Al tatto Più che esteticamente Mi ha detto Che l'unico modo Per cercare Di farli Uscire È appunto Quella di applicare Degli scrub Gommaci Insomma Delicati però Perché Sovravengono Soprattutto In questa zona Del contorno occhi Sono depositi Di grasso E non vanno Mai Questa è un'altra cosa Mi ha insegnato Spremuti Perché non sono Cioè Sono delle palline dure E Si rischia Anzi Si rischia Quasi Certamente Di avere Una cicatrice Questo non lo dico io Da profana Ma ho un dottore Qualificato Certificato E Mi ha aiutato Molto Fare scrub Ok Basta Vi parlo poi Della profumazione Di questi prodotti Ma prima Ciao 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 Bene Spero tra l'altro Di essere centrata Perché sto registrando Con l'iPhone E il blu E di attacco Legato all'iPhone Vediamo Quindi Non posso vedere Bene Andiamo adesso Di maschera E' una maschera Si chiama Preziosa E' una maschera Viso Purificante Con salvia Argilla E rosmarino Usate qualcosa Nell'occhio Ok Suona abbastanza Stemina C'è chi Prima di questo passaggio Mi dice Di mettere Il tonico Abbiamo insegnato Diversamente Allora Stessa operazione Complicata Di prima Comunque Comunque Meno Complicata Ha una consistenza C'è il colore Del cemento Troppo grigia E la metto Con le mani Si Ha una consistenza Molto Compatta Compatta Andate Mi specchio Ok E' molto Molto Compatta Ed è Non poco Complicata Da rimuovere Però Come tutte le maschere Belle corpose Insomma Niente di nuovo Infatti Io la rimuovo Con In genere Mi va con Un Il panno Che utilizzo Anche per Struccarmi E poi Vado di acqua Il panno Pagnato Chiaramente Ok Mentre La maschera Agisce Circa 10 minuti 15 minuti Scusate Volevo parlarvi Della profumazione Di questi prodotti Però prima Sciacquo le mani Allora La profumazione Di questi prodotti A me non piace Per niente Nessuna Delle due E Mi dispiace Molto Perché Il prodotto In sé È validissimo Io però Lo sapete Se mi seguite Che sono un po' Strana Per le profumazioni Cioè Sento odore Di Non lo so Di qualcosa Di finto Non so Non so come dirvi È una sensazione Stranissima Però Non per questo Non ricomprerei Questi prodotti Assolutamente Semplicemente Un'aggiunta Ecco Lo scrub È delicato Ma non troppo Io ho la pelle mista È sensibile E per me Va bene È sensibile Non ipersensibile Però E La maschera Che è appunto Purificante Per me Che ho la pelle Mista Ma adesso Che sono incinta È normale Non è più mista Va benissimo Andava bene Quando era mista Va bene Adesso che è normale Quindi ve li consiglierei Tanto Questi prodotti Così come il contorno occhi Che si chiama Ce l'ho lì giù Gocce di luce Che è il contorno occhi E il contorno labbra Bene Direi che posso aspettare 15 minuti E poi torno da voi Potrebbe essere un po' Cambiata l'inquadratura Perché ho dovuto Risbloccare il telefono Per non seccare Le maschere Sto usando Ce la sto usando per tutto In realtà Tra un po' la bevo anche L'acqua termale Di Aven Mi sto trovando Troppo bene Con quest'acqua Perché Dovremmo evitare Di far tirare Le maschere Questo sempre Qualcuno più competente Di me Quando dico le cose Perché me lo dice qualcuno Poi Qualcuno di competente Dovremmo evitare Appunto di farle tirare Va bene Va bene anche Dell'acqua spray Normale Con il pannettino Di microfibra Visto che sono passati 15 Anche 17 Minuti Comincio a togliere La maschera Anche se Non si vede Quasi più Non ne metto mai Troppo Chiaramente in modo delicato Senza Infastidire Diciamo Ulteriormente La pelle Che c'è stata Sollecitata Con Lo scrub E La detersione La maschera Stessa Adesso È una strada Molto Sottile Ok Ora Sciacquo Veramente Anche il panno E poi Torno E sicuramente Di nuovo Cambiata L'inquadratura Perché La La ventosa Per lo specchio Non collabora Oggi Quindi Il cellulare Si abbassa Ok Mamma mia Ne avevo Veramente Bisogno Trovo che Nonostante Sia sciacquata Molto bene Questa maschera Sulla mia pelle Resti comunque Leggerissimamente Me la lascio Leggerissimamente Appiccicosa Allora Vado a mettere Adesso Il tonico Ci ho aspettato Troppo Però vabbè Mi piace da morire E ti do Musole Toscana Glash Link Per pelli Miste Grasse Acnei Che con Pori dilatati Tendenti a sudare E' un tonico Che regola Il sebo Odore Pessimo Per me Proprio Bocciatissimo Però mi piace da morire Ma un grande Difetto Cioè Due in uno Costa Troppo E Soprattutto Per la quantità Cioè Io do Due sbrozzate Sulla mano Che è il minimo Perché mi copra Tutto il viso Non parliamo Di far così Perché se ne vanno 5-6 sbrozzate Ma finisce Tipo Subito Questo è un bel difetto Infatti Credo Che poi Tornerò Agli idrolati Perché E' un prezzo Insomma Questa Questa Vi giuro È la quantità Minima Per il viso Se c'è asciugato Meno di due Sbrozzate Per me Per la mia Grandezza Di viso Non so come dire Scusate Controllavo la registrazione Due sbrozzate È perfetto No Questo Non mi piace Poi vado a mettere Appunto Conce di luce Che è finito Anche lui Che Contorna occhi E labbra Con estratto Di riso Acido Ialuronico E acqua Di melissa Levicante Illuminante Adatto a tutti I tipi Di pelle Di questo Ne basta Veramente Una goccia Altrimenti È troppo È comunque Troppo Questo Mi basta Sia per occhi Che per labbra Allora Occhi È Davvero Molto 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 Fluido È Una È leggerissimo Davvero Leggerissimo L'ho messo Troppo Purtroppo Ne basta Davvero Una gocciolina In genere In genere Io Tendenzialmente Metto Il contorno Occhi Solo la sera Perché Altrimenti Sudando Soprattutto In estate Mi si ingrassa Questa parte Però Oggi mattina Saranno le 10 Però sto Facendo il video Quindi sto facendo La skin care Completa E metto Il mio Love Non la potrò mai Abbandonare Questa Cre È un fluido Matta Ve l'ho fatto vedere 800 volte Di Melvita Melvita Se me ne vuoi inviare Una scatola Io Sono pronta Che ho sempre Acquistato E nessuno Mi ha mai dato Niente Di queste cose E È un fluido Opacizzante Alla menta Viverita Che pure Questo è quasi Finito Dovrei comprarlo E costa Veramente Tanto Però qui Dura Anche tanto Mi pare 16 euro Sono 6 No Cavolo dico 40 millilitri Ne basta Comunque Pochissimo È veramente Un fluido Ha un profumo Pazzesco E Mi lascia La pelle Come seta Per me È proprio Profumo Di fine Skincare Non metto Il cielo Oggi Perché Troppo In estate In realtà Come vi ho detto Questi giorni Precedenti È fatto Talmente caldo Che Levavo il viso E mettevo il tonico Stop Senza crema Lo so Che in teoria Ops Lo so Che in teoria Non si fa Che si mette Sempre la crema Ma Avevo la pelle Perfetta Senza crema Cioè Nel senso Elastica Morbida La gravidanza Non ce n'era bisogno Adesso Infatti Rispetto A questi giorni Passati Mi sento Bella Appesantita Però Non in senso Negativo Mi sento La pelle Che è stata Lavorata Non so come dire Bene Direi che La mia Mega skin care Tra l'altro Anche domenica Quindi Ci sta tutta È finita Quindi Vi mando Un grande Grande bacio Non so appunto Quando uscirà Questo video Ma ci vediamo Comunque Al prossimo Ciao Ciao